L'8158, occupazioni italiane, dal 1918-43, una collezione mista di francobolli nuovi e usati, molto interessante. L'8158, occupazioni italiane, dal 1918-43, una collezione mista di francobolli nuovi e usati. L'8158, occupazioni italiane, dal 1918-43, una collezione mista di francobolli nuovi e usati. L'8158, occupazioni italiane, dal 1918-43, una collezione mista di francobolli nuovi e usati. L'8158, occupazioni italiane, dal 1918-43, una collezione mista di francobolli nuovi e usati. L'8158, occupazioni italiane, dal 1918-43, una collezione mista di francobolli nuovi e usati. L'8158, occupazioni italiane, dal 1918-43, una collezione mista di francobolli nuovi e usati.